Torni la pace e la concordia, secondo le norme della Chiesa e il dettato della scrittura. Questo l'appello dell'Arcivescovo della Diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro Riccardo Fontana dopo la riunione con il Consiglio Pastorale della Parrocchia di Olmo. L'atmosfera nella frazione aretina si era scaldata a seguito di una lite tra fedeli e parroco, una situazione che aveva decisamente scosso la comunità locale e che nel mese dell'Avvento aveva portato addirittura all'interruzione del Catechismo. Il Vescovo ha così convocato i membri del Consiglio Pastorale, presenti il parroco Don Adam, il vicario episcopale e quello di zona. Alla fine della riunione i presenti hanno fatto un appello comune che la Chiesa si ritrovi nella carità e si torni ad un clima di pace e concordia. Resta però in sospeso la questione della giostra dei rioni, quella quale Don Adam aveva avuto un acceso scontro ad inizio dicembre, nel momento in cui le ceramiche rappresentanti quattro rioni sarebbero dovute essere appese in Chiesa. Fu in quel momento che Don Adam cacciò fuori dalla parrocchia il presidente Roberto Parnetti e gli altri presenti una situazione incandescente al punto che si rese necessario l'intervento della polizia che identificò tutti i parroco compreso. Il clima non si era poi disteso nemmeno nei giorni successivi, la giostra dei rioni era stata infatti sfrattata. A seguito della lite il parroco aveva infatti iscritto all'associazione chiedendo indietro locali che gli erano stati concessi la restituzione delle chiavi entro il mese di gennaio.